Ragasuoli prima di iniziare il video vi invito a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati Grazie e buona visione Se volete sapere come costruire spade, picconi e picconi nella vita reale trovate tutto in descrizione E bella ragasuoli bentornati in questo nuovissimo video sono Cristian177 Siamo con oggi ragazzi come promesso con delle nuovissime Arriviamo a 400 mi piace per la terza parte del video informazioni perché ragazzi voi non avete idea di quello che sta arrivando su minecraft console L'abominio dell'aggiornamento, cioè gli aggiornamenti che sono usciti fino adesso ragazzi possono accompagnare solo cioè niente proprio Tralasciando questo il mio pc non so cosa succede oggi si è rimbambito Mi sta cancellando i file, si blocca, si scoppia quindi hashtag si scoppia proprio di ignoranza così ragazzi Arriviamo a 400 mi piace per un prossimo spoiler su telegram Quindi ehi se tu non sei ancora entrato su telegram mi raccomando lo trovi in descrizione Li lascerò un mega spoiler Già ho quello di oggi l'ho visto quindi se te lo sei perso vallo a vedere perché tanta tanta roba Domani uscirà un video normale su un glitch di quelli allucinanti ragazzi Allucinanti scoperto per caso e anche quello non ve lo potete perdere Quindi con il prossimo aggiornamento, con il prossimo video aggiornamento sarà venerdì Passate anche su Instagram per chi non mi segue ancora passate qui perché vi faccio vedere tutte le cavolate che acquisto E presto arriverà un video anche su una cosetta molto interessante Non perdiamoci in chiacchiere procediamo Siamo sempre qui con i nostri amici della 4J Studios Guardate un po' ragazzi cosa hanno aggiunto Anzi ve lo faccio vedere in due volte Hanno aggiunto la doppia mano Finalmente voi direte Chissà non è vero non è possibile non l'hanno aggiunta la doppia mano Invece ragazzoli per fortuna aggiungeranno la doppia mano Io come al solito mi sbaglio sempre Eccola qui Eccola qui vi farò vedere anche un video dimostrativo Quindi non vi preoccupate Oggi vi faccio vedere tutto Allora come vedete è stato aggiunto un quadratino Che è questo qui che vedete qua Dove c'è quella freccia Lì qualsiasi cosa verrà inserita all'interno appunto ragazzi Molto semplicemente diventerà lo slot della seconda mano Ora voi direte sì ma è foto stioppata Non è vero E invece sì ragazzi è originale C'è anche il video che lo dimostra 3, 2, 1 E lo andiamo a vedere subito insieme Dove cavolo è che mi sbaglio sempre Eccolo qui Allora ragazzi Mappa in mano Mappa nella mano normale Guardate che figata Posiziona la mappa Compare la manina di là Con la mappa E funziona Guardate che figata Quindi ragazzi Doppia mano Finalmente Confermata Da qui credo che uscirà di tutto Molti di voi mi hanno chiesto lo scudo Lo scudo Lo scudo Dello scudo purtroppo non si sa ancora niente Però ragazzi Se esce la seconda mano siamo già a buon punto Vuol dire che poi uscirà anche lo scudo Molto probabilmente Se non uscirà insieme Alla doppia mano Ma questo lo scopriremo In un prossimo spoiler Che ci faranno Questo non lo so neanche io Quindi non ve lo so dire Un'altra cosa molto 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 figa È questa Naturalmente non ci hanno fatto vedere solo la mappa Ma ci hanno fatto vedere anche Una freccia Prende la freccia E la posiziona nella seconda mano E guardate un po' che cosa molto carina Praticamente Prende anche l'arco E ci fa vedere che Tenendo La freccia con l'altra mano E l'arco L'arco scocca Quella freccia lì Quindi per esempio Se voi avete delle frecce normali Nell'inventario Però volete che lanci prima Quelle speciali La mettete nella seconda mano E lui lancerà prima Appunto Queste frecce Speciali Ora Altra informazione Di servizio Ci sono due metodi Appunto Per posizionare gli oggetti Nella seconda mano Come ben sapete Su Minecraft PC Esiste il tasto F Che voi lo premete Sull'oggetto che avete in mano E lo mette nella seconda mano Su console invece Dovremmo fare tantissime cose Cioè Dovremmo modificare noi Comunque assegnarli noi Un tasto Il metodo più semplice Per portarlo appunto Nella seconda mano E Il metodo del Prenderlo E Trascinarlo Come vedete Nel suo Quadratino Però questo magari In un Hunger Games O in un Battle minigame Qualsiasi cosa È Complicato Cioè È scomodissimo C'è un altro metodo Che è quello che vi dissi Tempo fa Vedete che c'erano già arrivato C'erano già arrivato Inception Grandità Anche a tutti voi Quelli che c'erano arrivati Insieme a me Basterà premere Una di queste freccioline Che dovrete Naturalmente Impostare voi Perché se il video di ieri Non l'avete visto Andatevelo a vedere Perché vi spiego A cosa serverà La frecciolina In sopra Lo comparirà adesso Qua sopra Mentre La doppia mano Sarà uno di questi Due bloc Uno di questi Tassi Che comunque andrà Impostato Schiaccerete E Magicamente Da qui Passerà Sulla seconda mano L'oggetto Quindi ragazzi Tantissima 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 Roba Per il momento Ci hanno fatto vedere La mappa Però Sono convinto Del fatto Che Funzionerà anche Con tutti gli altri Oggetti E credo Proprio che Funzioni Con il tasto Con cui piazzate Però a sto punto Non lo so Quindi Proprio i tasti Li dovremmo ancora Verificare Quando saprò Qualcosa di più certo Vi aggiornerò L'uscita Non c'è una Data ufficiale Però io credo Sia verso O fine maggio O metà giugno Comunque O proprio al massimo Fine giugno Non di più ragazzi Perché poi di solito Durante l'estate Fanno uscire Dei minigame Per far divertire Noi giocatori Quindi ragazzoli Passate su telegram Per il prossimo spoiler Perché arriverà anche lì Una cosa maestosa Non ve lo dico Non ve lo dico Passate su telegram Se volete scoprirlo E ragazzoli Vi ringrazio tantissimo Per leggere i video Lasciate Commentate Iscrivete Fatemi Spolliciate Condividete Fatemi sapere Cosa le pesate Io vi ringrazio tantissimo Spero che il pc Si metta Posto Che dire Ci becchiamo Nel prossimo video WOOOOO